Il nostro mondo è fatto di parole, scritte, parlate, urlate, bisbigliate, spettegolate, sussurrate, non dette. Non riesco ad immaginare i miei pensieri senza le parole di sottofondo. La nostra mente è come se fosse un cestino di rifiuti pieno di parole cattive, maldette. Dobbiamo imparare quello che insegnavano le suore quando eravamo piccoli. Parlare bene di tutti, pensare bene di tutti, fare del bene a tutti. O il nostro mondo e la nostra anima imploderanno.